... ... ... ... ... ... ... ... ... grazie sapete che non mi siete mancati non mi siete assolutamente mancati buongiorno ciao ciao ci mancano due come stai? bene io ho paulo non mi hai visto? è strano non solo perché sono 30 cantanti 30 artisti in gara ma per me ci sono anche molte bande qua ragazzi ahahah 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 eccoci noi ci mettiamo ci arrivo con tanto entusiasmo con tanta voglia di salire sul barco quindi ci aspettiamo là poi poi sono entrati a te ecco vuoi vedere qua? no ciao 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 come va? bene 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 Sì, è stato il silenzio. 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 Sì, è stato il silenzio.